buongiorno amici buongiorno amiche ecco un adattatore android auto wireless carplay wireless presente su amazon italia l'ho preso per voi lo sto provando da alcuni giorni ho fatto anche dei lunghi viaggi e vi posso dare un feedback assolutamente positivo il mio samsung con android 14 si collega sempre velocemente in modalità wireless senza senza nessuna problematica né di tempi né di caduta della linea lui è costruito proprio bene il cavo è in tessuto e se lo spostate vedete la linea non cade cosa che con altri con altri dongle succede cioè se voi spostate il dongle anche solo con una curva cade la linea mentre lui la linea non cade mai è costruito molto bene al tatto è proprio premium qui nei dove vedete i loghi di android auto e carplay ci sono delle piccole si illuminano al buio però in modo in modo gradevole non sono invasivi o pacchiane non non ha nessun pulsante di sorta la luce sono solamente questi due simboli che si illuminano in modo gradevole quindi al tatto è molto premium come vi dicevo non non ho avuto problematiche lo potete inserire o alla usb normale come nel mio caso se nella vostra automobile avete solamente la usb c dovete utilizzare l'adattatore che è presente in confezione per me è promosso agli aggiornamenti ota e se lo trovate a un buon prezzo compratelo tranquillamente è presente su amazon italia le alternativa c'è il solito msx che funziona bene che continua a essere il mio preferito però se volete se lo volete formato pennetta comprate ancora questo se invece vi piace questo formato così che è più magari adattabile a situazioni in cui le usb sono nascoste o scomode allora questo qui diventa veramente una un'alternativa tenerlo in mano è un piacere vederlo è un piacere il funzionamento è perfetto quindi potete comprarlo tranquillamente vi metterò come sempre il link in descrizione se avete le domande le potete fare nei commenti vi ricordo che lui funziona android auto wireless carplay wireless ma in entrambi i casi la vostra automobile deve essere dotata già di carplay via cavo e android auto via cavo perché se nella vostra auto non c'è la predisposizione a carplay via cavo e android auto via cavo questo dongle non funziona ok in quel caso vi consiglio di prendere i display già dotati di android auto e carplay che sono recensiti sempre in questo canale vi saluto ci vediamo presto